La razionalizzazione dei parcheggi sembra la misura principale per stimolare la gente a tornare a fare spese e passare tempo in centro storico all'Aquila. Soste orarie e collegamento con il mega parcheggio di Colle Maggio sono solo alcune delle misure richieste dai commercianti del centro storico e deliberate dal Consiglio Comunale nelle misure per incentivare il commercio. Le esigenze sono far ritornare l'Aquilano, quelli che vanno qua, oltre che i turisti, nel centro storico e dare la possibilità alla gente di venire in macchina e parcheggiare tranquillamente senza problemi di multe o cose varie, pagando poco secondo noi, dal nostro punto di vista, e fare delle navette gratuitamente per venire in centro storico. I parcheggi ci potrebbero aiutare a portare avanti le nostre attività e aiutarci comunque sia a fare in modo che anche le persone che hanno meno possibilità di fare tanti metri, chilometri per venire qua potrebbero avvicinarsi al centro. La popolazione è contenta di andare in centro a fare compere o semplicemente a passeggiare. Finalmente si può rifare shopping in centro, sì, mi sembra che sia migliorato negli ultimi anni. I parcheggi ce ne sono e il problema finora è stato l'assenza degli esercizi commerciali che adesso per fortuna cominciano a riaprire. È come se fosse un centro commerciale all'aperto, quindi che c'è di meglio fare una passeggiata e comprare qualcosa. È migliorata molto, 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 dagli ultimi due anni che sono stata qua. È fondamentale far tornare la gente all'Aquila per riattivare economicamente la città. Intanto anche la polizia municipale con molto buon senso è sempre più presente in centro storico cercando di contribuire alla lenta rinascita e riorganizzazione della vita ordinaria dopo i tanti anni in cui, a causa dei cantieri, il centro città è stato vissuto senza regole.